Carissimo Giosi, carissimi amici in tutto il mondo che ci ascoltate sulla bella radiodiffusora, buona domenica a tutti, auguro con tutto il cuore, la prima domenica di maggio 5 del 5 2019, che bello sarebbe se fosse veramente il mese mariano che si canta e si diverte, si gode anche i rosari nelle sante chiese e così via, invece da noi c'è il brutto tempo ancora che ci tiene un po' stretti in casa, ma comunque la neve di domenica scorsa è partita, si è sciolta, ne ha fatti 94 cm di bella neve fresca, ha fatto un po' paura, un po' di impressione, ma non paura veramente perché noi siamo abituati anche alla neve. Il totale, ve lo posso dire, il totale di tutta la stagione sono arrivati 3 metri e 13 centimetri, 3 metri e 13, pensate, è poco, per il nostro fabbisogno, che abbiamo bisogno della natura, ci manca come minimo ancora mezzo metro e speriamo arrivi presto perché non vorrei rovinare tutta la primavera con la neve. Cari amici, ma per fortuna il tempo non si può comandare e dobbiamo accoglierlo come arriva e come viene stabilito da sopra, c'è qualcuno sopra di noi che dirige e noi lo prendiamo e ci accontentiamo, anche con occhio chiuso magari, ma bene dai. Ok, pensate, oggi domenica, bella domenica, calma perché adesso è un periodo molto calmo, non ci sono più tante di quelle feste, corse di qua, di là, siamo veramente bene, calmi. Pensate, sabato ho avuto la fortuna, ho il piacere di fare il sacrestano, a costa, nella nostra chiesa di San Daniele, che la nostra sacrestana, la titolare, è andata in gita. Allora io la sostituisco volentieri. Don Fabio ha celebrato la Santa Messa con i nostri credenti, i nostri parenti e paesani, e dopo la Santa Messa siamo andati a berci un caffè a casa mia, e purtroppo il bar Dolomiti è ancora chiuso, non so quando aprirà, ma per adesso ci accontentiamo anche un caffè in privato, vedi, caro Giosi. Guarda, non ti dimentichiamo mai, Giosi, vedi, il primo maggio, festa dei lavoratori, allora si è in pace, si è rilasciati e tutto, assieme a Nino, sai, il sacrestano e Graziella di Danta, no, i sacrestani, e siamo andati in Sapada, sai, al ristorante Edelweiss, dove siamo stati anche quest'estate tutti assieme a goderci un bel gelato, assieme a Marcella, ti ricordi, e sì, tutti quelli che c'erano di Sapada, del coro anche, e sì, il primo maggio, assieme a Nino e Graziella, siamo andati lì a Edelweiss, ci siamo goduti questo bel gelato, gostoso, molto gustoso, è stata una bella gitta, piccola, ma bella, noi ci accontentiamo sempre di poco, non siamo esagerati, noi facciamo le cose ad agio, gentilmente, e ci tira sempre avanti, è sempre in allegria, come sempre, pensa in allegria, venerdì avevo bisogno di tagliarmi i capelli, perché ero un capellone ormai, vado dalla parrucchiera, da Valnea, la mia cara parrucchiera, che sono oltre vent'anni che vado da lei, vado lì e mi fa accomodare vicino a due signore, e gli fa attenzione che questa signora si sposa domani, oh mamma mia, una giovane ragazza che si sposa lì vicino a me, ha detto ma Valnea è proprio qui dovevi mettermi, cerchi di non farmi troppo bello, non vorrei compromettere la sposina, abbiamo fatto un sorriso, ebbene, sempre in pace, in allegria, anche adesso auguro ancora ogni bene a quella sposina che si è sposata ieri, sabato, si è sposata, è tutta felice, ho visto delle foto del matrimonio, sì, della festa, sì che tanti tanti auguri di tutto cuore, cara, come si chiamava, aspetta un momento, devo pensarci, ma guarda un po', Serena si chiama, Serena, più Serena di una Serena, guarda, Serena si chiama, tanti auguri Serena, a te, e lunga vita, e felice matrimonio a voi tutti, oh sì, tutti, tutti due, eh sì, ecco, vedi cari Giosi, il mondo è sempre piccolo, gira dove vuoi, c'è sempre una cosa che si ripete, che si guarda, e che si gode, e così via, pensa sabato sera, chi mi telefona alle 10 di sera, puoi immaginarti, Gili Gava, aveva nostalgia, è una settimana che a Roma è già nostalgia del nostro bel comelico, mi ha telefonato per farmi auguri di buona domenica, caro il nostro Gili, non vede l'ora di ritornarci, ha già detto che a settembre ritorna, guarda, lui ha nostalgia, gli piace troppo i nostri posti, e lui ha la possibilità di venire due, tre volte all'anno da noi, perché è sempre benvenuto, come tutti sono benvenuti, ma lui ha la possibilità, è così vicino, e in tre ore e mezzo, quattro ore, è qui da noi, sicché appena può, fa una scappatina, e ci arriva, qui a godersi il nostro bel comelico, tutti assieme, ma non è solo Gili Gava, che voglio ricordare, io ho anche amici, tanti amici, a Nuovo Venezia, a Caravaggio, pensiamo, pensiamo anche Albertina Spillere, Busarello, che mi ha spiegato, che l'ha detta, all'incarico di preparare i giovani per la comunione, la santa comunione, di tutta la diocesi di Crisuma, vi rendete conto, e quanti bambini quella signora deve accudire, stare attenta, partecipare, avere gli aiutanti, certo, ma è una coordinazione, che deve correre, e fare, organizzare, cara Albertina, cara Albertina Spillere, Busarello, se mi senti per caso adesso, ti auguro, tanto, tanto coraggio, e soprattutto, tieni duro, tieni duro, perché le delusioni ci saranno sempre, ma tu tieni duro, con la buona volontà, con l'aiuto di tuo marito, Realdino, sono sicuro che porti a termine, il tuo compito, tanti, tanti auguri, cara, sono felice, di aver appreso da te, che fai questo compito, è un lavoro, immenso, spero, che tu ne sia, orgogliosa, perché, fai con l'amore, lo fai con la buona volontà, sicché a tutti, auguro che hanno a che fare, con Albertina Spillere, Busarello, cercate di aiutarla, di rispettarla, e volerle tanto, tanto bene, questo alla nostra Albertina, e poi, caro Giosi, sai, che lo sai di sicuro, che Sani Spillere, eh, mi manda sempre, le fotografie, sempre, le feste, gli avvenimenti, che avete, la cara Sani, non mi dimentica mai, anche Nelly, me li manda ogni tanto, ma, meno, ma Sani, li manda ogni giorno, sai, è così bello avere un'amica, che ti manda sempre le notizie, e tiene sempre il contatto, questa è una roba, che devo molto, molto ringraziare, caro Sani, grazie mille, un gran abbraccio a te, caro Sani, eh, vedi, caro Giosi, non so più cosa dirti, ma, io sono così felice, di avere tanti amici, in Brasile, eh, e altrettanto, quando arrivano qui da noi, per l'amor di Dio, sono tutti sempre benvenuti, e così, non ho altro da dirti, sono felice, di avervi come amici, cari, tutti, eh, domenica, godiamoci questa domenica, anche se da noi in Gommelico, arriverà un po' di neve, adesso di nuovo oggi, durante il giorno, che non ha importanza, non farà tanto, eh, noi abbiamo il freddo, ancora, siamo sull'1 a 2 gradi, eh, la settimana, durante la settimana, andremo sotto zero, ma accontentiamoci anche di quello, facciamo fuoco, e siamo sempre allegri, a tutti, buona domenica, ciao, ciao.